Berrettini è un po' perso Berrettini, uno che va con la satta e smette di giocare a tennis, meglio non mi coerere la propolaccia, evito qualsiasi commento, ma credo che lui sia proprio così, io ho un regista famosissimo che lo ha seguito e che lo conosce molto bene e praticamente lui aveva una storia serissima con una ragazza, nascosta, a un certo punto questa storia a questa ragazza un giorno, innamoratissimo, fa una storia, questo un anno fa, Instagram e lui non se ne accorge la posta taggandolo, lui la lascia immediatamente